Nella settimana dal 5 all'11 dicembre si assiste a un lieve incremento delle nuove infezioni con un'incidenza pari a 11.361, 1.13% e un valore accumulativo di 237 su 100.000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Enna, Palermo e Ragusa. Le fasce d'età più a rischio sono quelle tra i 70 e i 79 anni, tra i 60 e i 69 e gli over 90. Il lieve aumento, le nuove ospedalizzazioni, più della metà dei pazienti in ospedale risultano non vaccinati. I dati relativi alla campagna vaccinale prendono in esame la settimana dal 7 al 13 dicembre. Nella fascia d'età 5-11 anni i vaccinati con almeno una dose sono il 24,52%, ha completato il ciclo primario il 21,17% del target regionale. Gli over 12 vaccinati con almeno una dose sono il 90,89%, ha completato invece il ciclo primario l'89,54% del target. La terza dose è stata ricevuta da 2.770.894 persone, pari al 72,38% degli aventi diritto. Dal 7 settembre il Ministero della Salute ha autorizzato l'utilizzo dei vaccini bivalenti per la somministrazione della terza dose e dal 23 settembre l'autorizzazione è stata estesa, su richiesta anche per la quarta dose, a tutti gli over 12 che abbiano ricevuto la terza dose da almeno 120 giorni. Dal 1 marzo la quarta dose somministrate sono state 204.718, delle quali 181.933 ha soggetti over 60. Dal 23 settembre è consentito l'utilizzo dei vaccini bivalenti anche per la quinta dose alle persone con marcata compromissione della risposta immunitaria. Infine, dal 17 ottobre il Ministero ha autorizzato la somministrazione della quinta dose con vaccino bivalente anche agli over 80, agli ospiti in RSA e agli over 60 con fragilità. Le quinte dosi finora somministrate sono 4.861.